Ciao a tutti, benvenuti a questo altro bel episodiuccio di The Many Red Fa freddo, a Londra è una cosa incredibile Stiamo veramente gelando e quindi questo bel completino abbinato è un segnale per così Perché così quando sarò vecchio rincoglionito, magari se ci saranno ancora i miei video Potrò dire quanto ero stupido, cretino e idiota E adesso lo sono ancora di più perché sono anche rincoglionito perché sono vecchio Ma perché questa introduzione pagliaccesca? Perché questa puntata è dedicata a tutti i ragazzi e a tutte le ragazze E a tutti coloro stanno nel mezzo, in qualsiasi altra categoria Che vivono nei paesetti, nei paesini, nelle provinciottole E vengono additati come diversi, vengono additati come freaks Qualsiasi sia la loro condizione, sia che hanno una vita o un sistema di vita diverso Perché magari usano qualche droghetta Sia che siano sessualmente orientati in maniera diversa rispetto alla grande massa Sia che abbiano scelte musicali e gusti musicali diversi Sì che siano persone che si vestano in maniera diversa perché abbiano una passione, un interesse Per un certo tipo di fashion Per un certo tipo di genere musicale che detta in un certo senso Il vestire in un certo modo Come il punk, l'extremo punk, il rock O che fanno parte di particolari gruppi di persone Che sono in minoranza, parlano una lingua diversa Hanno qualsiasi cosa che li diversi la massa E si sentono soli nel loro paesottolo Beh, sono solidale e vi appoggio con tutto il mio cuore Perché io stesso a Genova ho patito le pene dell'inferno Perché vivevo in una città che è comunque grandicella Rispetto a un paesotto Però che ha, diciamo, una caratteristica peculiare Che è il conservativismo Cioè tutti i miei amici di scuola O meglio, non tutti, non generalizziamo Molti dei miei amici di scuola quando sono cresciuti E molte delle persone che io avevo attorno Mi hanno discriminato O mi hanno tenuto a debita distanza Perché è omosessuale Perché con gusti musicali molto particolari A me è sempre piaciuto il funk e il soul E ad esempio, tipo, le persone Cioè molte persone che conoscevo Anche con una certa conoscenza, cultura Mi dice, mi guardavano Ma tu, Paolo Tu sei speciale Tu Solo tu puoi comprare queste cose Che in realtà è un insulto Come dire Solo un coglione come te può andare in un negozio E comprarsi, ad esempio, il vinile dei Sea Wind Whatcha Doing su A&M Records Che il Michelone adesso farà vedere magari E io per quel vinile che mi portavo a casa Nella mia bellissima borsetta C'è una tipa che conoscevo Che tra le altre cose aveva anche una Insomma Insegnava a scuola Quindi una persona Un minimo di, insomma, di culturina Però Massimo del conformismo Perché non aveva in mano un disco Di una cosa che conosceva lei Solo tu puoi venire a casa con dischi così Solo puoi andare a casa E portarti a casa dischi così E questi sono piccoli segni di razzismo Poi ci sono le botte di frocio che mi sono preso E poi ci sono le botte di cretino Tipo Quando parlavo come DJ E dicevo Ah ma perché il sole, il funk C'era molta gente che ascoltava rock E mi diceva Ma va a fare in culo Vai ascoltare tu quella musica dei Vabbè Poi ovviamente dei neri Però ho detto in maniera molto più Volgare Che non voglio neanche ripetere Vai tu ascoltare quella musicaccia da neri Che in realtà È alla base di tutta la musica di adesso Però diciamo Mi sono preso botte di qualsiasi tipo Perché oltre a essere appunto diverso naturalmente Ero anche diverso per gusto musicale, cultura Poi a me ad esempio è sempre piaciuto leggere E quindi ero già un occhialuto Io porto gli occhiali Adesso me li sono tolti un attimo Perché mi rilasso un attimo Ma ero anche l'occhialuto Quindi in Italia Diciamo come ci dice Ippolito Nievo In memoria di un italiano Si è discriminati per qualsiasi cosa Cioè se si è un pochino diversi E si hanno dei gusti O delle idee politiche O qualsiasi cosa Che gli altri In un determinato ambiente non hanno Tu sei il diverso Céline in Viaggio nel termine di una notte Che è un capolavoro di libro anarchico Dà la visione della persona diversa In un viaggio su una nave In cui appunto questa persona Il protagonista era l'unico Che non aveva pagato il biglietto E proprio per questo Ha avuto delle grosse difficoltà A sopravvivere in quel viaggio Adesso andiamo a vedere Che quali sono le Gli orrori E le pestilenze Intellettuali Che creano a persone Che abbiano Diversità O che abbiano una diversa personalità Nel mondo E soprattutto in Italia Da cui provengo La prima cosa che si vede Su internet E tanta gente che scrive Come commenti Soprattutto ai commenti Di alcuni video di Mr. Nichilista Ciao Enrico E saluto con affetto Gli scrive Gli dice E dice Ah non ce la faccio più Io vivo in un paese Tutti mi dicono Che non ho la ragazza Quindi sono finocchio Tutti mi dicono Che non ho la macchina E sono uno sfigato Tutti mi dicono Che non ho questo E quindi sono uno sfigato Eccetera Allora questa è una mentalità tipica Dei tempi moderni Se non sei conforme Sei una merda E' una cosa che esiste Da tanto tempo E' una cosa che esiste Probabilmente Il conformismo E' una cosa che esiste Dai tempi In cui esiste l'uomo Come ci dice Pasolini Nella una delle ultime interviste Che ha fatto Sul set di Salò E i 120 giorni di Sodoma L'uomo è conformista L'uomo si adatta a tutto La gente poi digerisce anche tutto Quindi in un certo senso L'uomo è conformista E in questo suo conformismo Si mette dalla parte del più forte Quindi molta gente che vuole avere una vita tranquilla E' già d'accordo Di base con chi Ha le idee più Generiche O le idee principali Che sono le idee mainstream Che sono le idee del più forte Per cui molta gente Senza neanche mettersi in discussione O magari mettendosi in discussione Privatamente Dice Se io vedo Un gay che passa per la strada I miei amici li sputano addosso Mi aggrego anch'io No? Così Insomma Sono sul sicuro Molte persone omosessuali Che conosco Ad esempio Guardano le donne Per far finta di essere etero Quando sono in posti pubblici Perché in certi posti Se non le guardano Sono automaticamente Bollati come omosessuali Ma se la gente lo sapesse Queste persone Non sopravviverebbero Probabilmente Più di un tot E' ovvio che poi ci sono anche Gli omosessuali con le palle Che ti spaccano la faccia Se osi dirgli qualcosa Io conosco due o tre persone Di questo tipo Io ad esempio Non sono di questi Non alzo le mani Però ho sempre Combattuto a parole E ho anche rischiato Di prendermi delle gran botte Ma ovviamente Le botte ho anche rischiato Di prendermele Per altri motivi Cioè Le botte le ho rischiate Di prendere Perché ho detto Che il primo Michael Jackson Era un autore Di grande valore Cioè Ero circondato da gente Che ascoltavi Le Zeppelin Per poco Non mi prendevo Dalle sberle Perché quando gli ho osato Dire che Diverse cose Delle Zeppelin Prendono dal funk E il funk E anche materia prima Di Diciamo Musicisti neri Che hanno fatto La storia della musica Molto prima Che le Zeppelin Comincessero a premere Il tasto di una tastiera O a suonare Uno snare di batteria Lì ho rischiato Di brutto Evidentemente Se poi leggete Qualsiasi storia Della musica Anche i grossi Cronisti Da rock Ti dicono Che molte Composizioni Delle Zeppelin Oltre ad essere State scopiazzate A livello di copyright E farò un episodio speciale Se volete su questo Vengono direttamente dal blues Hanno un drumming Che è un drumming funk E hanno diversi riferimenti Anche sull'arrangiamento I vocali In certi casi Sul gospel Ma questo era naturale Perché negli anni 70 Arangiare A quel modo E comporre a quel modo Era cosa comune Perché gospel Funk Soul Erano parte Del linguaggio musicale Dell'epoca Quindi in un certo senso Come anche adesso Molti pezzi di pop Hanno dei corretti gospel Dei beat di break Perché questo viene Dalla cultura funk Dalla cultura jazz Dal drumming del jazz Da tante altre cose Che c'erano prima E delle quali In molti episodi Del passato Su cui mi sono Delle quali ho parlato E su cui mi sono sgolato Dateli a rivedere Però per dire queste cose Che sono le cose più ovvie Del mondo Tra altre cose A Genova Nel 1982 83 Che era l'età In cui incominciavo a uscire E conoscere gente Ho rischiato Delle brutte cose Brute situazioni E le mie memorie di Genova Sono divise In due In parte La bellissima epoca Della gioventù In cui avevo tante energie Ed ero molto più Forse Disposto A sognare Di adesso Però Nonostante questo Non ho perso La capacità di sognare Nonostante mi sia preso Tanti calci in culo Dal realismo Incessante Nella nostra bella vita Da borghesi di merda Diciamo che Mi sono abituato E ho fatto molta pratica Nell'arte dell'essere Diciamo Nell'arte di recepire Nell'essere insultato Ma di rispondere Con pacata Fermezza E Oculata diplomazia Cosa significa questo? Ho imparato una cosa fondamentale Quando qualcuno ti insulta Per qualche diversità Che tu hai O che manifesti Nel modo di essere Di fare Eccetera È perché questa persona Ha un problema Come ho detto prima Questa persona Può voler stare Dalla parte Di chi ha la voce Più forte Dalla parte Della voce Del padrone Così si evita Problemi Oppure può essere Una persona Che effettivamente Si sente Estremamente insicura Il che potrebbe essere Anche ricadere Nel caso prima Si sente Incredibilmente Insicura E vorrebbe essere O esprimersi In modi Che siano In dissonanza Col pensiero Mainstream Col pensiero Dei più Però non ci riesce E per questo Crepa di invidia Nei confronti Delle persone Invece Che vanno vestite Con una scarpa Di un colore E quella di un altro Per scelta cosciente Per scelta consapevole Ovviamente E odia Tutti coloro I quali La pensano In maniera Non mainstream Proprio per il fatto Che vorrebbe Ma invidia Questa è una È una tipologia Esistono poi Tanti altri Tante altre ragioni Anche più serie A livello Di psicologia E di Anche di storia Di abusi Che queste persone Hanno sofferto Per cui si ritrovano Ad odiare omosessuali Prostitute Eccetera Io conosco Dei ragazzi Che mi hanno confidato Che hanno avuto Attenzioni Non hanno subito Attenzioni non volute Da parte di omosessuali Quindi Posso anche capire Che queste persone Vedano Gli omosessuali In maniera Molto negativa E abbiano anche Le loro ragioni Per avere certi sentimenti Nei confronti Degli omosessuali Penso anche però Che gli omosessuali Non siano tutti così E come ci sono tante persone Che abusano Di altri Che sono omosessuali Ci sono tante altre Che abusano E sono eterosessuali Per questo Ovviamente Uno non dovrebbe Odiare Tutti gli eterosessuali Del mondo Perché è stato abusato Perché ha subito Abusi Da un eterosessuale Ma ovviamente Questi sono problemi Complicati Che non sto qua A trattare Perché ovviamente Riguardano la vita Di altre persone Che non sono io E ci vuole ovviamente Una competenza Per trattare cose delicate Però Qual è il succo Di questo discorso È che Se le persone Ti rompono i coglioni Perché tu sei diverso Il problema non è il tuo È il loro Perché uno dovrebbe attaccarti Perché appunto Ha un problema Che sia un problema Legittimo o illegittimo Che sia un problema Di carattere Personale Di storia di abusi O che sia un problema Proprio di carattere Di scelta politica Io sto dalla parte Di chi è più forte Ho un problema Di insicurezza Ho un qualsiasi altro problema Perché ce ne possono essere Triliardi Di casistiche Di particolarità Questa persona Ha un problema Il problema non ce l'hai tu Questo lo imparai Tanti tanti anni fa Quando facevo Il DJ Album Film Che era un locale di Genova Ciao a tutti Ex colleghi Una sera C'era Lo staff di quel locale Era gente veramente Coi coglioni Cioè io ho sempre Ammirato Molte delle persone Che lavoravano Perché era veramente Gente che quando parlava E apriva bocca Stavi a sentire Che era un piacere E c'era una ragazza Che lavorava al bar Tra altre cose saluto Che mi disse Proprio questa cosa E ci rimasi E mi colpì molto Mi disse Guarda Paolo Tu Tu sei quello che sei E quello che sei E quello che sei Punto e basta Quando qualcuno Ti rompe le palle E ti dice Brutto ferocio di merda Vaffanculo Tu e la tua musica di merda Che sono gli insulti Che mi sentivo rivolgere Quando suonavo Come DJ Lee Ricordati che il problema È solo il suo Tu non hai problema Perché tu non hai attaccato nessuno Tu sei lì Sei così E stai facendo la tua cosa Stai facendo il tuo lavoro La pista va bene È piena È tutto a posto Però ovviamente Ci sono persone A cui non va bene La tua presenza Neanche la tua esistenza Ma ovviamente È loro il problema Che quando vedono Una roba di colore rosso Non gli va bene Ma se tutto è tutto nero Va bene Se vedono tanti omini neri È tutto perfetto Se vedono uno rosso No Quando quindi uno vive In un paesino E si ritrova a bersaglio Di tutti quanti Perché effettivamente Ha Un sistema di vita Che non è conforme Il problema non è il suo O meglio È un suo problema Perché si deve togliere di lì E deve risolvere Questa situazione Il prima possibile Però è un problema Che ha a che vedere Tantissimo Con Con come gli altri Vedono Chi non si conforma Quindi l'attacco Parte sempre dagli altri Io non si Non si crea il problema Da solo Cioè io come gay Non è che andavo A toccare il culo Alla gente Sugli autobus O a toccare i pacchi Ai ragazzi Sugli autobus Io mi facevo i cazzi miei Mi trombavo la gente Che ci stava E non rompevo i coglioni A nessuno Mi facevo anche Una vita molto discreta Non è che facessi Chissà cosa E come persona A livello musicale Gusti musicali Non li volevo mai imporre Quando suonavo come DJ Suonavo quello Che volevano gli altri Il problema era sempre Dell'altro Cioè l'attacco Veniva sempre Da qualcun altro Non ero neanche Uno di quelli Che andava in giro Vestito in maniera provocatoria Perché ho sempre vestito Un paio di jeans E una maglietta del pifero Quindi non avevo neanche I vestiti di You know Yves Saint Laurent O di Hermès O il completo di Gucci E facevo la diva In via 20 settembre Via di Genova E tutti quanti mi addocchiavano E poi arrivava quello Che mi insultava No Era una persona normale Che comunicava Al proprio stato Nel parlare normalmente E che poi Ovviamente quando In una città come Genova Che comunque Era Ed è Penso ancora adesso Estremamente provinciale Tutto si sa In certi ambienti Venivo insultato Regolarmente Dalle persone Che venivano a sapere Che io ero Un DJ Che suonavo Un certo tipo di musica Eccetera Quando In particolare Mi Recai Iniziai a recare A Milano Per comprare i dischi Lì Successi un finimondo Molta gente Molti DJ Alcuni anche Tra le altre cose Con cui ho lavorato Mi dicevano Con cui lavoravo Mi dicevano Ma che cazzo fai Tu Non ti va bene Genova Devi fare la diva Devi fare il divo Devi andare a comprare Dischi a Milano Mi andavo a Milano Per un'altra ragione Neanche tanto Perché c'erano dischi Più belli che suonavo Perché a Milano C'era Mariposa Ai tempi Negli anni 80 Che aveva un sacco Di dischi di funk E di soul A pochi soldi Cioè Mille Tre per mille lire Cinque per mille lire E robe del genere Adesso non mi ricordo C'è poi una storia Di navi Che sono arrivate Dall'America Con un sacco Di dischi forati O con L'angolino tagliato Etcetera No E Mariposa Mariposa ne aveva un casino E andavo lì E non me li compravo Perché cazzo Mi sono fatto Una discografia di sole Di funk da paura Spendendo pochi soldi Il viaggio del treno Non era un'enormità E quindi Ero più felice Di andare lì Che comprarli altrove Ma venivo additato Comunque Perché Probabilmente Io avevo detto Che andavo a Milano Ma mi dei dischi E la cosa Non era piaciuta Ad alcuni Non a tutti Ovviamente Come non è piaciuto Come non piace Ad esempio Ancora adesso A certa gente Che vede Viene in camera mia E vede tutti i dischi Ma li ascolti Tutti in una volta Ma che cazzo ci fai Con tutti questi dischi Si vedete i dischi Io effettivamente Li ascolto Tutti in una volta Li metto tutti Sul giradischi Poi c'è una puntina Multidimensionale Che riesce a leggere Tutti i solchi Di tutti i dischi Uno sopra l'altro Perché io vengo dal futuro Quindi ho queste tecnologie Megagallattiche Quindi ho 30.000 dischi Che ascolto In una pila enorme Tutti in una volta In una dissonanza Cacofonia universale Ragazzi Siamo seri Ma chi ti chiede Se ascolti 30.000 dischi Tutto una volta Il cervello Ce l'ha Nel buco del culo O si è dimenticato Quando è nato Perché è ovvio Che uno che ha 30.000 dischi Si ascolta Quelli che vuole Quando vuole Oggi mi sento In vena di hip hop R&B Mi sto ascoltando UGK Una produzione Del 79 Sì Degli anni 90 Prima mi stavo ascoltando Hip Step in Dressed Fella Delle Love Unlimited Di Barry White Del 78 79 E ancora prima Mi stavo ascoltando Prince Perché ci avevo voglia Così Sono a casa mia E mi sono ascoltato Ste cose qua Domani Se mi gira Mi ascolta altre cose Avere una cultura musicale Significa variegare E non ascoltare Sempre le stesse menate Se nell'ipod Io ho Non mi ricordo Il numero esatto Ma Tot migliaia di pezzi Per me già quelli sono pochi Perché alle volte Mi va di variare Ma sono scelte personali Che non dovrei neanche Giustificare È ovvio che una persona Con tanti dischi Ha dedicato più tempo Alla musica Ma è ovvio Io conosco dei collezionisti Che hanno 30, 40, 50 mila dischi E hanno una cultura musicale Pazzesca E hanno questa cultura musicale Pazzesca Perché amano la musica E hanno speso Sicuramente Un po' di tempo Con tutte le cose Che hanno comprato Ci sono quelle Che magari ascoltano Più di frequente Quelle di meno Ricordiamoci anche Che quelli che hanno Tanti tanti dischi Ma si parla di Svariate decine di migliaia Non neanche di svariate migliaia Sono persone che hanno vissuto Per la propria collezione Quindi hanno respirato Ogni singola nota Di molti dei dischi che hanno Altri magari Vengono poi dimenticati Perché Adesso queste sono cose complicate Da spiegare L'ho già fatta La puntata sui collezionisti Ma i collezionisti Alle volte vanno a fasi Per cui ci sono gli anni In cui si ascoltano Degli artisti O dei generi Tipo l'afro-funk E poi magari Il quinquennio dopo Cambia Ed è più soul-funk Con una puntina di afro E quindi cambia Tutto il repertorio Perché qua si parla Di repertori Da 50, 40, 60 70 mila dischi Quindi ovviamente Spostando un attimino il gusto Si va su un gruppo Di migliaia di album O di singoli Che sono completamente diversi No? Poi c'è Vabbè c'è anche altri generi Oltre alla musica nera La musica industriale Il post-punk Il punk Il punk rock Il funk rock Il rock funk Il rock Il punk La disco La new disco C'è un miliardi di robe Con la tecnologia adesso C'è una democratizzazione Del processo musicale Per cui chiunque produce musica Quindi il collezionista Che vuole anche solo Che avere una collezione Di digitale In digitale Di tutta la tecno Il breakbeat Il breakbeat prodotto Il dubstep Il dubstep Il two-step Cioè si trova Un compito Veramente spaventoso Il fascismo Della classe media O della classe dominante Nel vostro paesino Allora Un racconto Che illumina un pochino Lo prendo topolino È Paperone E l'insostituibile pendola È un raccontino In un topolino Degli anni 80 Dove c'è Il numero 1378 Paperone Che va da nonna Papera E la critica Perché ha tutte le robe vecchie Dovrebbe rinnovare I suoi mobili E la sua fornitura Di oggetti da cucina E non a Papera E dice Sono vecchi Sono contenta Con le mie vecchie cose Sono solide E lui a un certo punto Le vuole imporre Di Come si dice Comprare Le sue cose nuove In cambio di quelle vecchie Perché ovviamente Ha un interesse Nel collezionare Oggetti antichi E magari anche Produrli industrialmente Con materiali più scadenti Cosa che poi Vabbè Succede nel racconto Eccetera Nonna Papera Ovviamente Non vuole cedere niente Del suo Perché lei vive A suo modo Nel suo piccolo mondo antico Con le sue idee Con le sue cose Paperone chi è? Paperone è l'industriale Che arriva È il grosso Diciamo Padrone Detentore Dei mezzi di produzione Che arriva E ti vuole rivoluzionare Ti viene a rompere I coglioni La vita a te Perché tu ti devi comprare La macchina bella Che produce lui Ti devi comprare Il forno a microonde Bello Che produce Una delle sue compagnie E devi avere La tv al plasma E devi avere Non neanche i DVD Ma l'acconto L'acconto sul cloud E devi essere trendy E devi vestire Vestire fighissimo E oltre a vestire Una bella macchina Roboante La tua donna Se sei di sesso maschile Deve essere la tua proprietà E devi trattarla Come una vera puttana E merce da esposizione Per i tuoi amici E così diventi Un perfetto esempio Di uomo da successo Secondo quello Che è il modello capitalistico Quello per cui voi ragazzini e ragazzine Soffrite Quando non tollerate Questa visione delle cose Lo dovete All'industrialotto di turno O alla grossa compagnia Che ha lavato il cervello A tutti i vostri compaesani Che vivono Nel più bieco Schiavi del più bieco Capitalismo Che ha totalmente livellato Qualsiasi tipo di Velleità Desiderio Trasformandoli in Desideri di consumo Avere la cucina bella Avere la casetta bella Con i mobiletti Di questo Di quello In Fight Club Che è un film Che consiglio di guardare Per chi non l'ha ancora visto Si discute Nella prima parte del film Lo stato di sudditanza Che ha un moderno Un impiegato di un moderno Una moderna compagnia Nella città di New York City Che ha il concetto di sudditanza Che questa persona ha Nei confronti Dell'Ikea No? Ikea Boy No? Lo chiama Il suo alter ego Virtuale No? Perché si costruisce Tutta la cucina Tutto l'arredamento Con qualsiasi mobile Dell'Ikea E telefona febbrilmente All'Ikea Nell'inizio del film Per comprare L'ultima robina Perché deve avercela No? Perché Ikea Probabilmente a New York L'Ikea O Ikea Come si dice in Italia Era molto trendy All'epoca Adesso qui a Londra È considerata Una merda economica E si comprano le cose Dell'Ikea Perché ovviamente Non si trovano magari cose A prezzi più bassi Anche questa è una scusa Perché su ebay Ci sono degli ottimi mobili In stile Che costano molto poco Forse anche meno Di quelli dell'Ikea Ma vabbè Quindi diciamo Chi si comporta Razzisticamente Lo fa perché è vittima Qualsiasi tipo di differenza Culturale Come Pasolini diceva Il capitalismo distrugge Qualsiasi tipo di diversità A livello regionale Dialettale Di tradizione Eccetera Perché anche se tu mantieni Quelli che sono le tue Le tue vecchie tradizioni Sei comunque Vittima di quelli che sono Tutti i riti del consumismo E tutti i riti che tu consumi In virtù della tua schiavitù Al capitalismo Hanno in un certo senso Un valore perverso Perché sostituiscono Quei riti invece sociali Che facciano parte Delle tue tradizioni sociali Ad esempio Il rito di uscire E andare in vacanza A Ferragosto Con la macchina nuova Il rito di andare in discoteca Con la macchina bella E portare la fidanzata figa Sono tutte cose Che in realtà Non sono volute Sono tutte cose Che vengono dall'alto E sono state imposte Dal capitalismo Che ormai è radicato In qualsiasi parte Del mondo occidentale E stare attenti E non farsi condizionare Da esso In maniera Diciamo Continua E molto difficile Perché qualsiasi cosa arrivi Arriva con violenza Difatti La stessa violenza Che la politica E il capitalismo Usano per Convincere le persone Che devono vivere In un determinato modo È la stessa politica Che usano le persone Che vi trattano Come delle merde Perché voi Siete diversi Proprio perché voi Non vi conformate Compiute State compiendo Un doppio torto State compiendo Un torto A livello psicologico Nei confronti Di coloro I quali Vogliono che voi Cioè vorrebbero Che voi Vi uniformaste E poi state compiendo Un torto Verso la grandissima Religione Del capitalismo A cui loro Si sono tutti Inginocchiati Perché loro Sono quelli Che fanno i padroni E ti dicono Che c'è Che devi avere Anche tu Una bella fica Se non sei omosessuale Che devi avere Una bella macchina Se non sei un senso Sfigato Questa gente Che non ha neanche capito Che tutto ciò che fa Lo fa perché Gli hanno detto Di farlo Non può essere una scelta Che centinaia Se non migliaia Di persone Decidano di avere La bella macchina E la bella figa È una mentalità Che deriva Da una operazione Politica ed economica Che è stata fatta Su milioni di persone In Italia E in altri E anche in altri posti Nel mondo Dunque con queste cose In testa Bisogna partire Armati Culturalmente Intendo Bisogna sapere Che queste persone Non sanno quello che fanno Tutte quelle persone Che ti dicono Che tu devi essere In un certo modo Se non lo sei Sei una merda Sono persone Che non sanno Quello che fanno Sono persone Che pensano Di sapere Quello che fanno Sono persone Che dicono Ma io difendo La tradizione Io sono per la famiglia Sono per la tradizione Tu non sei per la famiglia Perché essere Per la famiglia O per la tradizione Non vuol dire Sputare in faccia A chi non si adegua Un conto È chi non rispetta Gli altri Un conto È chi vive Semplicemente Una vita diversa È delle cose diverse È in maniera diversa In una città come Genova Che sembrerebbe Essere una città Quindi uno pensa Che è libero Sì C'è sicuramente Più libertà Che in un paesottolo Ma comunque Sei Vivi in un quartiere Dove la gente Ti parla alle spalle Ti rompe i coglioni Ti sputa addosso Ti insulta E ti corre anche dietro Per dartela In alcuni casi Ma quello non è mai successo Ma a delle persone Che conosco Sì E non c'entrava niente All'omosessualità Neanche in questo caso Significa semplicemente Non essere gentili Verso persone Che ti impongono Una determinata scelta politica Ad esempio C'è una persona Che conosco Che negli anni settanta Perché non accettavano Un volantino Con la dovuta grazia Venivano presi a schiaffi C'è una persona Che perché Non avevano offerto A determinate persone Che gli avevano chiesto Un'opinione conforme Alla loro Sono state Sono state trattate Stratonate Stratonate Eccetera eccetera Hanno subito violenza Questo è perché Effettivamente Viviamo in un mondo Dove i rapporti sociali Sono basati Su quella che è la forza Della maggioranza Versus La minoranza In realtà Non esiste una democrazia Ma esistono Gruppi Di persone Che appartengono A determinati ambienti In cui Il credo Diciamo Filosofico Culturale Di un certo tipo Queste persone Impongono con violenza E con aggressività Il conformismo Alle loro idee Il conformarti Alle proprie idee A tutti coloro I quali Non sono Non sono d'accordo Io A scuola Più di una volta Ho rischiato la rissa Perché nell'istituto magistrale A Genova Dove ero Io Avevo il mio modo Di vedere le cose Dicevo Anche magari Con aggressività Le mie idee Alle volte Perché ero molto giovane Quindi ero molto Più pepato Di come lo sia Adesso Però non ho mai Messo le mani addosso Nessuno Rischiato Di farmale mettere Io non sono stato Né mai Dalla parte Dei comunisti Né dalla parte Dei fascisti Sono sempre stato Abbastanza critico E sospettoso Nei confronti Di tutto quello Che mi arriva Dalla pubblicità Di tutto quello Che mi arriva Dall'industria Dell'editoria Di tutto quello Che mi arriva Dal giudiziario Di tutto quello Che mi arriva Dal mondo Della politica Di tutto quello Che mi arriva Da qualsiasi parte Quindi anche La cultura Il modo di vivere Dei miei Coetanei Delle persone Che erano Diciamo Attorno a me Le vedevo In un certo modo Cioè tendevo A linkarle A collegarle A quelle che sono Delle politiche Ben precise Quindi quando voi Vi trovate soli Nei confronti Di questi individui O gruppi sociali Che esercitano Una violenza psicologica Una pressione Su di voi Sappiate che A Non siete soli E ci sono tante persone Come voi Da qualche altra parte Nel globo Che non sono Assolutamente D'accordo Con la maggioranza Come non lo siete voi E B Che il problema Non è il vostro Sotto categoria O comunque Categoria Molto importante Da considerare È l'ideologia Che viene Dall'industria Dell'intrattenimento È importantissimo Questo Perché se no Non si capisce Il perché C'è gente Che ha rotto Tantissimi I coglioni A delle donne Che volevano Mantenersi libere Indipendenti Bollandole Come delle puttane Cioè in piccoli posti In piccoli paesi Se una ragazza Decide di farsi I cazzi suoi È una zoccola Se invece si sposa Ed è fedele A un uomo unico È una brava moglie È una brava compagna Ecco Questo Modo di Trattare male La donna E considerarla Come Un essere vivente Che deve vivere In funzione Di un ideale Tutto maschile È una cosa Che viene Da Da prima di Dante Ok Se consideriamo Già Dante Nella divina Commedia Dante Beatifica In un certo senso Beatrice La pone Direttamente Nel paradiso Fino a quasi Prima di salire Diciamo Nell'Empireo Nella parte Nell'ultima parte Del paradiso Dove c'è Dio E tutti i cherubini E eccetera Che è la parte Dove si annullano Tutta la Diciamo La concezione Del tempo E dello spazio Per cui tutto ciò Che è lontano E vicino Si vede Allo stesso modo Bellissimo canto Meraviglioso Però Nel Beatificando Beatrice Che è una donna E mettendola al top Della 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 sua Struttura Diciamo Del mondo Oltraterreno In un certo senso Compie un'operazione Che era tipica Degli autori Medievali E anche E anche Delle epoche successive Cioè di Porre la donna Su un gradino Così alto Il che porta Che porta Alla spiacevole Conseguenza Che Nel caso Qualche donna Decida di farsi Un po' Gli affari suoi Ovviamente Non rispetta Quella collocazione E viene Targata Viene targata Le viene attaccato Addosso Il Il peggio Del peggio Viene colpevolizzata Al massimo Perché la posizione Della donna È Diciamo Nel sublime Nel paradisiaco Nel divino Guai se la donna Si abbassa A vivere in dipendenza Con la propria carne Ma allora mi verrebbe da dire Ma gli uomini Non vivono in dipendenza Con la propria carne Non hanno un uccello Che svuotano Continuamente Blandendo come trofei I nomi Delle Delle loro Vittime Delle signore Che loro avrebbero Trombato Facendo una lista Interminabile Per poter dire Noi siamo dei grandissimi Meravigliosi Casanova Ci piace scopare questa Abbiamo scopato quella Abbiamo scopato quell'altra Come se fossero andati Come se avessero fumato Diverse marche di sigarette Quindi questo è il punto È un problema enorme Questo Da un punto di vista Sociale Viene da un'ideologia Un'ideologia Che parte Dalla letteratura Dal rinascimento Da prima Eccetera eccetera Continua Ad andare avanti Fino a quando Non arriviamo Proprio a Alla società industriale Che anziché Migliorare La posizione Delle donne Rinfocola E rafforza Questa posizione Della donna Che Targa Diciamo Targa Scusate Che pone la donna In una condizione Di inferiorità totale Soprattutto negli anni Sessanta e settanta Con dei film Pornografici A livello Non pornografici Scusate Di soft core Come verrebbero definiti Film con un po' Di erotismo Un po' di tetti Un po' di culi Dove Edwidge Fennec Tantissime altre Meravigliose donne Sono state accopiate Ad attori Dall'aspetto Orribile Come ad esempio Renato Pozzetto Lino Banfi Eccetera eccetera E queste donne Bellissime Nei loro film Sono state trattate Come Delle grandi Bottane Ovviamente Queste sono attrici Che sono state pagate Quello che sono state pagate Hanno avuto una fame Una popolarità notevole Giustamente Uno può dire Erano liberi di farlo Ed erano liberi di fare questo Questo si collega in parte All'episodio Di Che ho fatto Nella mia risposta Sgarbi Quando dice Libere alle donne Di darla Eccetera eccetera Sì Libere di darla Se hanno la scelta Se il darla o non darla A me sembra che in Italia Le donne Fino a un certo periodo Magari adesso è cambiato Però fino a un certo periodo Avevano sicuramente La necessità di darla Se volevano fare carriera Ed erano belle Punto B L'industria del cinema Non offriva Alle donne A molte donne O quasi a tutte La possibilità di avere Dei ruoli seri Soprattutto se erano belle L'unica cosa Che era possibile Per loro Era quello di fare Le zoccole E questo è Il tipo di industria Cinematografica Che ha avuto Più successo in Italia Perché ovviamente Quando vai a stimolare Gli istinti più bassi Della gente E eccelli In stupidità E stronzate La gente ovviamente Plaude Questo è il massimo Se io facessi Dei video di hip hop Con della musica Super commerciale Dove faccio vedere Culi e tete fiche Sicuramente Colgo molti Molti numeri Molti più grandi numeri Che se faccio Della musica hip hop Raffinata Con dei video di classe E un minimo di ricerca Sull'immagine Quindi a quelle povere ragazze Che si trovano In condizioni di sudditanza E che vengono Ghettizzate Per il fatto Che hanno Semplicemente La loro vita sessuale Libera e indipendente E vengono bollate Come troie Ragazze Coraggio Levatevi di lì Appena potete E andate in un posto Dove la gente Si fa molti meno problemi Nella cara vecchia Inghilterra La situazione è simile Ma a Londra Che è una grossa metropoli È diverso Diciamo che è brutto Lasciare il proprio paese Invitare la gente A lasciare il proprio paese Però d'altra parte Se uno ci sta così male Che cosa deve fare? Ispirarsi al suicidio Perché deve continuare A vivere in un posto Dove è nato Quando non riesce A vivere la propria sessualità La propria vita La propria libertà sociale La libertà di relazionarsi Con chi vuole La libertà di ascoltare E di acculturarsi Con ciò che più desidera Ovviamente Purché si rispettino le leggi La libertà altrui Io direi che Sarebbe già un passo in avanti Se nelle società Nei gruppi umani Con pochi Con un numero basso Di abitanti Si riuscisse a capire Anche E a integrare La persona diversa Io posso anche capire Che esistono paesi italiani Dove esiste Un grosso rispetto Per le poche persone Che hanno Delle diversità Di carattere Di vari tipi E che li vivono Però purtroppo I messaggi Che io ricevo Su facebook E su youtube Sono messaggi disperati Di gente Che mi dice Aiuto aiuto E allora appunto Io ripeto Attenzione Sappiate Che questo problema Come ho già detto N volte Durante questo mio Logoroico intervento Non è questo Un vostro problema Solo È un problema Non è solo Un vostro problema È un problema Anche di chi vi attacca Chi vi attacca Lo fa per i motivi Che ho sopra descritto Una cosa molto interessante Che potete fare È quella Di informarvi Informarvi proprio Su questo problema Sul bigottismo E la mentalità reazionaria Che esiste In certi posti Io Ho letto tantissimo Durante la mia vita E ho capito Appunto Che questi problemi Hanno le origini Nelle matrici Filosofiche Economiche Di cui vi ho parlato Vi consiglierei Di guardare Pasolini prossimo nostro Che è importantissimo Come documento Di Berto Lucci Lo trovate su Youtube Vi prego Guardatelo Lì Pasolini Fa un'intervista Incredibile Dove parla Di consumismo Dove parla Di capitalismo Dove parla Dell'effetto Dirompente Nell'anichilamento Delle particolarità Individuali Della distruzione Della mentalità Contadina E soprattutto Una cosa Molto importante Dello stato Di imponderabilità In cui si trova L'individuo Tra Quando rimane In sospeso Tra I propri valori Umani Tradizionali Che derivano Da secoli e secoli Di rapporti umani In società Precapitalistiche Diciamo Preglobalizzate Indicibilità Preglobalizzate Con quello Che Lo stato attuale Invece Di membro Sottomesso In una società Che ha Una forte Pressione Politica Che porta Al capitalismo E quindi Alla distruzione Di quei vecchi valori Quindi Sospeso Tra I vecchi valori E quelli nuovi Che in realtà Ovviamente Non sono valori Ma sono Valori di un sistema Che proietta Tutta la propria Sovracultura Sulla massa Degli individui Verso i quali Esercita Questo potere Proprio perché Da un'analisi Di Marx Si capisce Che in ogni società Capitalistica Chi detiene I mezzi Di produzione Non solo Produce merci E servizi Ma produce Anche tutta una Cultura Che è funzionale Alle politiche Di questo gruppo Detentore di potere Affinché la gente Si diriga In una determinata Direzione E quindi favorisca Il consumo E ovviamente Questo ovviamente Include anche La cultura Modificare la cultura Di qualsiasi Gruppo locale E modificare I rapporti Tra le persone E qui arriviamo Alla big picture Questo è un libro Che vi ho fatto già vedere Ve lo rifaccio vedere Compratevelo Accattatevelo Questo qua Gli Adelfi Della dissoluzione Di Maurizio Blondè Strategie culturali Del potere iniziatico Allora qui si parla Di tante cose Molte magari Sono irrilevanti Perciò O comunque Sono indirettamente Rilevanti Ma poco importanti Di particolare Importanza È un capitoletto Di questo libro Che vorrei Commentare con voi Rapidamente E che si collega In parte A ciò che Ho appena detto La big picture Quindi come stavo dicendo Esiste una Grande figura Che è quella Della strategia Politico Culturale Economica Che grossi Gruppi finanziari E gruppi politici Hanno portato avanti Negli anni Negli ultimi Non so 50 anni 60 anni Al fine Di portarci Ad un certo punto A livello Molto indiretto Diciamo In gruppi Molto più bassi C'è il paesino Con Diciamo L'arrivo Del capitalismo E l'omologazione Di cui ho parlato Prima Ma a livello Di base A livello Di Strategia Iniziale C'è una strategia Che mira A creare Nel capitolo Che viene definita Descritta Molto bene Nel Capitolo 10 Che cos'è Lo snobismo Degli adelfi Della dissoluzione Che mira Creare un potere Tramite La creazione Di stati D'animo E' incontestabile Che la mentalità Degli individui E delle collettività Può essere modificata Da un insieme Sistematico Di suggestioni Appropriate In fondo L'educazione stessa Non è altro Che questo E qui Non c'è nessun Occultismo Uno stato D'animo Determinato Richiede Per stabilirsi Di condizioni Favorevoli E occorre O approfittare Di queste condizioni Se esistono O provocarne La realizzazione Ecco Diciamo che Politicamente Culturalmente Tutti gli stimoli Che ci arrivano Dalla grossa industria Dell'intrattenimento Sono parte Di questa Visione Creare Cioè Degli stati Di spirito Collettivo Per cui Tutti siamo In una determinata Posizione Per poter poi Essere traghettati Verso un'ideologia Che è funzionale A quello Del mondo Capitalista Delle nuove politiche Del mondo Capitalistica Delle corporation Eccetera Quindi quello Che vediamo In questi paesini È un consumismo Esasperato E una ghettizzazione Di coloro i quali Non credono In questi valori Enrico Mister Nichilista È ad esempio Una di quelle persone Che dicono Io non ci sto A tutto questo Io non sono Per trattare Le donne Come delle mignotte Non sono Per trattare La mia vita Come quella Di un Di un soggetto Che deve per forza Avere la macchina Più bella I vestiti più belli Al fine di sentirmi Integrato E non voglio far parte Di queste strategie Di Omologazione E di manipolazione Delle menti Ricordiamoci sempre Che Pasolini In Pasolini Prossimo nostro Nella sua intervista Dice che il capitalismo Dà il peggio di se stesso Quando manipola Le coscienze Delle persone E che nel suo film Iperviolento La violenza Sui corpi È metafora Di quella Che è la violenza Del consumismo E del capitalismo Nell'attuare Politiche Di diffusione Del consumismo Sui singoli Esseri umani È per questo Che c'è Quello stato Di imponderabilità Di indecisione Tra il vecchio valore Tra i vecchi valori Contadini O i vecchi valori Appartenenti A società Arcaiche E i nuovi valori Del consumismo Che invece Richiedono Un livello Di competitività E di apparenza Tali da garantire Diciamo A un individuo L'appartenenza A un gruppo sociale Cosa che abbiamo Ripetuto almeno 800 volte In questo mio intervento E anche in altri Quindi diciamo Che una preparazione Culturale È una Serie di letture Di approfondimenti Possono aiutare Possono aiutare moltissimo A capire che Non siamo noi Le persone sbagliate Ma sono gli altri Coloro i quali Ci accusano Di diversità Coloro i quali Fanno il gioco Del potere Coloro i quali Fanno il gioco Di coloro Che stanno Dalla maggioranza Ricordiamoci sempre Che quando si dice Che una donna È una puttana Si va contro Un omessuale E gli si dice Frocio Si fa qualcosa Si fa anche Una battuta Di poco gusto Si pubblica Una vignetta Contro qualcuna Di queste persone Che hanno Una storia Di abusi Culturali Psicologici Fisici Eccetera Eccetera Si commette La violenza Che si può Commettere Quando si ha Si è dalla parte Della ragione Quando si è dalla parte Della ragione Qualsiasi atto Denigratorio È molto Ma molto Ma molto Ma molto Più forte Che è un atto Denigratorio Fatto da una Da una minoranza Versa una maggioranza Perché Quando c'è un leoncino E un leone grande Se il leoncino Fa il suo piccolo Ruggito Il leone grande Può anche mettersi A ridere Ma se il leone grande Fa il suo Wow Il leoncino Si spaventa O comunque In ogni caso Imprende quel segnale Come un invito Alla sottomissione E la sottomissione Che hanno Persone che appartengono A categorie Minoritarie Nei piccoli Centri abitati È un qualcosa Di enorme Ricordiamoci Che la violenza Psicologica È data Da tanti fattori La violenza psicologica Può essere appunto Data da A la volontà Di inferire Per puro sadismo B La volontà Di essere Parti di quel sistema Che inferisce E quindi ci si sente Automaticamente Della parte Di chi ha ragione Quante volte Ho sentito Padri di famiglia O persone Anche buone Naturalmente Inveire Contro Persone Che non avevano Intenzione O non rappresentavano Che non avevano Intenzione Di mettere Su una famiglia O che non rappresentavano La loro famiglia Perché effettivamente C'è il rischio Col capitalismo Con l'omodulazione Consumistica Che queste persone Indipendentemente Da quella che è la propria volontà Facciano parte Di quel gran gioco Che tende a livellare tutto Adesso Uno potrebbe dire Ma non è vero Perché le ultime politiche Soprattutto in Italia Negli ultimi 15 anni Portano A un riconoscimento Dei diritti omosessuali E di donne Da da di da 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 La politica Soprattutto nei confronti Delle donne Ha aperto In un certo senso La via a molti diritti I movimenti femministi I rinnovamenti A livello legislativo Negli ultimi 30 anni In Italia Di anni 70 A questa parte Insomma Ci sono state tante conquiste Questo è vero Potrebbe anche darsi Che il futuro del mondo È veramente Molto più positivo Di come lo dipingo Ma allo stato attuale Comunque io vedo Nel razzismo E nella cattiveria Che c'è nei confronti Di chi fa parte Di una categoria minoritaria Un grande gioco politico Un grande gioco economico Che si riflette Nella cultura Della collettività Che effettivamente Ha In un certo senso In mano Il destino Di coloro i quali Sono in minoranza Quindi coloro i quali Sono in minoranza I ragazzi Le persone che hanno Comunque Che vivono in posti Dove non riescono A svincolarsi Da questa pressione Il mio è un invito Ad andarsene O comunque se si vuole Se si vuole restare Di rimanere culturalmente Attenti e preparati E di saper rispondere Con garbo Ma con fermezza A quelle che sono Le pressioni altrui Ricordate che la cultura Vi può salvare La cultura può essere Una bella rottura Di coglioni Ma vi può anche salvare Dall'essere Dal credervi Dal credere Che voi siate Persone Che dobbiate soffrire Semplicemente Perché siete sbagliate No non siete sbagliate Nessuno è sbagliato Siete voi che siete Nel posto sbagliato Perché siete circondati Da gente sbagliata Grazie mille Per aver assistito A questo Orribile intervento Arrivederci E buona serata Grazie mille